Ben tornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. L'anticiclone continua ad insistere sulla nostra penisola, estendendo la sua influenza su tutta l'Europa centrale. Avremo così ancora condizioni di bel tempo diffuso sull'Italia per alcuni giorni. Venti freddi scorreranno lungo il bordo orientale dell'alta pressione, andando ad interessare le regioni adriatiche con annesso calo termico. Saranno possibili nebbie gelate al primo mattino, specie sulle pianure del centro nord Italia. Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 13 dicembre. Correnti fredde ma secche dai Balcani permetteranno una giornata ventuosa ma soleggiata su tutti i settori. Qualche nube scorrerà durante il pomeriggio dall'Adriatico ma senza rischio di precipitazioni. Temperature, come possiamo osservare dalla grafica, ancora fredde al mattino e in generale in lieve diminuzione. Venti freddi soffieranno con moderata intensità dei quadranti settentrionali. I mari risulteranno da mossi a molto mossi, specie l'Adriatico e il canale d'Otranto. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Gian Vito da Bari per questo fantastico scorcio del molo di San Nicola a Bari, illuminato dai colori del tramonto. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleapula oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.